John Borno ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo video nel quale andremo a ricostruire il Gil Vicente, la squadra più scarsa del Portogallo, finché non può vincere il campionato portoghese. Questo sarà l'obiettivo di questo video, ma voi se volete altri contenuti iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi, ma tantissimi, ma tantissimi mi piace per nuovissimi contenuti supportandomi di giorno in giorno. Detto questo ragazzi, andiamo a cercare di capire. Allora in porta abbiamo Freely, 71-23 anni, che per il momento può anche andare bene, Andrew, che come secondo me lo tengo, Arauco, che invece lo vado a vendere. A sinistra abbiamo Taloccia, 73-31 anni, sicuramente il Gil rinnovo il contratto, 6.000 cin, ma donna quanti soldi vuole, però lo vado a vendere perché è un terzino sinistro più forte e più giovane ci farà comodo. Mentre Enrique Gomes me lo tengo come vice, difensori centrali Cugna me lo tengo come vice, Fernandez se riesco lo vendo, Silva lo vendo, mentre quest'altro Silva me lo tengo come vice. Bisognerebbe prendere un foglio e scrivere quello che ci serve. Quindi sicuramente un TS titolare e due DC titolari. A destra abbiamo solo Ackman, che me lo tengo come vice, e Carlos, 72-20 anni, che quanto costa 5 milioni? E porca puttana, scusate, beh al momento me lo tengo, poi l'anno prossimo se avremo più soldi vedremo, però al momento me lo tengo, quindi va bene così. In mediana abbiamo Carvaglio, 69-24 anni, e Joao Alfonso, Joao Alfonso che gli rinnovo il contratto di sicuro, però poi lo vado a vendere. Invece Carvaglio me lo tengo e un CDC ci serve come titolare. Comunque ci serve una squadra intera, oh. Abbiamo Fujimoto che me lo tengo tutta la vita, Pedrigno che me lo tengo tutta la vita, non hanno clausole, vero? No, meno male. A Buriania che mi va benissimo come vice, Cagliato che mi va benissimo come vice, oh, un reparto ce l'abbiamo a posto. Bueno, 64-22 anni, come trequartista, che ce lo fa? Niente. Attenzione però, perché Murillo non può giocare qua. Allora, fatemi un attimo capire una cosa, Murillo deve diventare subito una alla destra, perché sennò noi abbiamo un problema con Murillo e lo frulliamo subito dalla finestra. Due settimane, perfetto, quindi il titolare a D ce l'abbiamo. Il panchinaro a D non è lui che lo vendiamo, ma è Anne, che è un buon panchinaro. Anzi, è lui il panchinaro, scusatemi, altro che quello fa schifo a confronto a lui, quindi quello lì non è un buon panchinaro, anzi fa vomitare. Anne, via, vattene. A sinistra abbiamo Lino. Ah, aspettate un attimo, Lino me lo tengo e a questo punto Anne lo tolgo dal mercato e me lo porto alla sinistra. Tanto è inutile andare a comprare i giocatori dove non ci servono, quindi Anne me lo tengo e blocco anche le offerte. In attacco abbiamo Navarro, che è indubbiamente il titolare a 23 anni. Poi abbiamo Santana, che lo vado a vendere, e Calero, che me lo tengo come vice. Ok, allora, detto questo, quindi ci serve un terzo sinistro, due difensatori centrali e un mediano. Intanto li andiamo a mettere i titolari, quindi qui gioca Murillo. Perfetto, i titolari li abbiamo già messi, non è che ci ha voluto molto, però questo è. Allora, vado a seguire un centinaio di calciatori che potrebbero farci molto comodo. Allora, sono andato a seguire quattro giocatori, uno per ogni ruolo che potrebbe farci comodo. E quindi aspettiamo un attimo per capire che cosa potrà servirci per il futuro. Facciamo anche il torneo precampionato, che tecnicamente sarebbero soldi, tecnicamente, tanto perdiamo al debutto. Ah, nel frattempo avevo quasi dimenticato che io ho un top player qua, che sbuca dal nulla, che promuovo in prima squadra, che è Pinto, Tiago Pinto, con Giuseppe Murillo, non poteva essere altrimenti. Perché spero che possa cambiare ruolo e fare un upgrade importante. No, non ho upgrade da nessuna parte Pinto, ma li portarci, vabbè, se lo teniamo un panchina come centrocampista. Ci avevo quasi sperato, invece niente, ho detto se questo sale di due o di tre, ci abbiamo già il mediano. Perdiamo anche la seconda, grazie ragazzi per aiutarmi sempre. Mannaglia la vacca, oh, managlia, managlia la vacca. Vinciamo l'ultimo, ma è inutile. Nel frattempo finiva il primo resoconto, quello su David Carmo. Vediamo se si riesce a prendere, anche se non credo perché costa un botto di sordi. Allora, vogliono 7 milioni e 2. Non è che ce li abbiamo, però possiamo andargli incontro. 5 e mezzo, 7 e 1. 5, facciamo 5 e 6, 7 e 1. Proviamo 6 e 1. 7, beh, però ci stanno venendo incontro, eh. 6 e 2 e poi aumentiamo un sacco la clausola. 6 e 8. 6 e mezzo e non se ne parla più, amico mio, il suo valore, il suo valore. 6 e 8. Pazzo, secondo me non accettano. 6 e mezzo e non se ne parla più? 6 e 7. 6 e 6? 6 e 7. Dai, dai, calami 6 e 6 che ho bisogno di soldi. 6 e 6? 6 e 7. Vabbè, accettiamo 6 e 7. Accettiamo 6 e 7 e ci prendiamo Carmo, che è il primo difensore centrale. Allora, il secondo mi interessa meno perché un difensore a 70 già ce l'abbiamo. È vero che c'ha 25 anni, però ce l'abbiamo già. Vuole essere cruciale, ci ho provato ad abbassare un po' le pretese. Le pretese, ma va bene così tanto fino a giocare a Carmo, quindi... Cioè, spero giochi Carmo, sennò prende un sacco di cartellini gialli se gioca agitato. Partire va a casa, se sentite rumore, è perché sto a coger pollo e sto a prete Davide Carmo e quindi sono tutto felice ed eccitato. Preso. Nel frattempo Murillo è pronto a diventare alla destra, sali? Non sale, vabbè, ognuno il proprio. Abbiamo tutti reso conti, Nugno Davares, ragazzi, mi fa impazzire, non me lo daranno mai, ma mi fa impazzire. Proviamo a risparmiare il più possibile. Partiamo da 5 milioni. Dai, vi prego. No, vogliono Pinto e 5 milioni, do 5 senza Pinto, ma siete pazzi? 9 e 3. Eh, vogliono un sacco di soldi. 5 e 4. Dai, 5 e 4 o 9? No, loro vogliono 9 e 3. Ribadisco 5 e 4 e poi tutti i spicci. Devono pensarci. Eh, è inutile che ci pensate, io non ho una lira, regà. Poi volevo prendere Costa come mediano, che invece non costa niente, a differenza del suo nome. Ma non so se c'ho proprio quella possibilità economica. Dovrei vendere qualcuno, ma chi cazzo vendo? Tanto qua a me si compra nessuno i miei panchinari scabrosi. Allora, no, non sarei per vendere Pinto, vi posso dire, rifiuto. Rifiuto e me lo tengo Pinto, non lo voglio vendere. Potevo accettarlo e fare mercato, ma preferisco di no. Tra l'altro Tavares è 7 milioni, non so, nemmeno troppi. Però si può risparmiare qualcosa. Tipo Fede 6, vediamo un attimo. 6 è accettato, perfetto, 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 perfetto. Ragazzi, Nuno Tavares sarà il nostro titolare. Per tutto il tempo diventerà il titolo... Madonna quanto cazzo percepisce. Diventerà titolarissimo e giocherà sempre da noi titolare. Ma quanto ho detto titolare? Almeno 100. Soffro 20 si incazza, secondo voi, vediamo. Eh, vabbè, non si è incazzato, però voleva più soldi, va bene così, 23. Ok, non era esattamente la cifra che volevano, però la voglio, no? Perché i soldi non fanno schifo a nessuno. Allora, devo riuscire a prendere... Costa, perché il mediano ci serve. Non so come fare, perché non ci abbiamo più un euro. E manco una lira. Aspettiamo un attimo, magari cascano dal cielo, che te posso dire? Ok, offerta per il trasferimento per lui. E noi ho preso il terzino sinistro, quindi mi va benissimo così. L'accetto molto volentieri, potrei prendere anche qualche centesimo di più, ma... Non voglio tirare la cinghia e nemmeno la minchia. Ma voglio prenderlo, voglio prenderlo, voglio venderlo. Allora, lui è partito da Locia, 2 milioni e 3 al Marsiglia. E io ho anche un'offerta per Afonso, che faccio partire anche lui, perché lui è quello che arriva... Cioè, che parte per prendere il mio mediano, che c'ha 70, tra le altre cose. Quindi va bene così. Cerchiamo di piazzarlo e poi ci buttiamo sul mediano che volevo. Venduto Afonso, reso conto sulla primavera, ce ne frega niente. Allora, dov'è il giocatore che volevo? Eccolo qua. E che cazzo, è salito. Mannaggia la puttana, è salito e vogliono più soldi. Io non ho parole, io non potevo aspettare un attimo per salire. Allora, gli offro 3 milioni e 4. Niente. Stiamo solo perdendo tempo. Mannaggia la vacca. Quanto volevano questi? Tanti inizia il campionato portoghese. Portoghese! No, ci fermiamo un attimo prima. Niente, è arrivato un cavolo, quindi che si ferma prima a fa? Pensavo ci fosse qualcosa. Invece no. Invece andiamo dopo la prima giornata, perdiamo 1-0. È un buon inizio, più o meno. Allora, proviamo a ritrattare. Eh, no, no, hanno un sacco di soldi, ma non ce l'avrò mai ragazzi da tagliarli. Allora, 3 milioni e 9. Vogliono pinto più 2-6. Non te lo do, pinto. 3 milioni e 9 e 10. 6 e 9, raga. Ma come un botto però? Cioè, 3-4. Dai, 4 milioni. 6 e 9. No, mi sa che non lo prendiamo, raga. Mi sa che stiamo senza mediano. 4 e 91. Devono pensarci. Sto riflettendo e sto pensando se far diventare titolare, a parte che è Carvaglio, 69 a sto punto, ragazzi. E magari Pinto può essere... No, ma se è trequartista Pinto più che mediano. Eh sì, sale pure tanto Pinto trequartista. Ve posso dire una cosa, raga. Trasformavo Pinto trequartista. E c'era un altro trequartista, bueno. Lo stiamo trasformando in qualcosa, bueno? No. Ma sai che c'è? Che quasi quasi. Vendo anche Carvaglio. Vendo anche... Ehm... Frélie lo vendo. Che sofferenza. Vendo anche Frélie. E vado a prendere un portiere vecchio. Che però mi dà una mano. In questo modo non devo più comprare il mediano, ma cambio a modulo e gioco col trequartista. Tanto che si volevano 6 milioni e 9, ma a me si possono prendere tranquillamente in saccoccia. Allora, portimonense. Cerchiamo di vincere, raga. Pareggiamo. Io ve l'ho detto a qua, serve un portiere, se noi perdiamo tutte. Intanto vinciamo a sorpresa, lo ha uno con il Benfica. Attenzione, questa è una gran risposta. Poi arrivata l'offerta per Carvaglio, 2 milioni e 2. Io li accetto, poi doveva le clausole, ricordatemelo. Perché so soldi. Tutti questi soldi ci entrano per prendere il portiere titolare. Intanto Pinto diventa trequartista, dimmi che sale. Sì! È arrivata a 70, ragazzi. Operazione conclusa. Se arrivasse anche l'offerta per il portiere, saremo a cavallo. E visto che a cavallo non si guarda in bocca, per favore, famo sto miracolo. Venduto Carvaglio per 2 milioni e 2. Allora, cambiamo modulo intanto. Anche se in realtà eravamo partiti non malissimo, però 4-3-3 offensivo dobbiamo fare, mi sa. Ok, eccolo qua. Perfetto. Qui però, gioca Pinto. Eccolo. Madonna ragazzi, un modulo pazzesco. Un modulo pazzesco. Pazzesco. E dobbiamo capire solamente cosa ci riserve il futuro. Lì chi c'è? Che squadra è quella? Un Benfica dentro un altro, vabbè, abbiamo vinto 3-1 ragazzi. Stiamo andando una bomba. Vinciamo il primo anno? No, non penso. Quanti soldi abbiamo? 5 milioni. Che schifo, pensavo molto meglio. Allora, sarebbe da fare un tentativo inutile e disperato per Rui Patrisio, eh. Ma gli diamo Freli più 5. Ma io dubito che la Roma accetti. 13. Chi cazzo ce li ha? 13. Ma dimmi di no a questo punto. 5? No, niente. Vabbè, ci sta. Ma si ti ha detto? Allora no. Eh no ragazzi, era troppo. Era veramente troppo. Sono indeciso perché penso che Mandanda costerebbe un milione e in quel caso prendiamo anche Ripeiro, secondo me. Cioè non lo so se lo prendiamo, però ci potremo provare. Allora dai, prendiamo Mandanda che costa un milione e c'è 79 per quanto possa calare. Insomma, quanto volete che cali? 800.000 hanno accettato. Ce lo prendiamo subito. E mi dispiace perché prendere un 36enne non è la cosa migliore, ma per il campionato portoghese va bene. Non abbiamo bisogno di giovani, insomma. Non ce ne frega niente dei giovani nel campionato portoghese. E sarebbe buono prendere l'altro centrale di difesa. In realtà la squadra è fatta, è pronta, non ci sarebbe nient'altro da chiedere. Però secondo me si può migliorare ancora con il portiere, quindi va bene così. Detto questo offriamo 20... Aspettate, 16.000? 15.000? Dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì. Ok, ha detto di sì. Perfetto. Preso Mandanda. Proviamo a chiedere con il rebeiro a questo punto. Vediamo se ci dicono di sì. Lui vale 3.9. Io gli offro 3.9. Proprio quello che lui mi ha chiesto. 7.2. Ma che cazzo? Ma come? 4.3. 7.2. Raga, ma è troppo. 4.5. 7.2. Allora, scambio giocatori. Li do Freely più 3.5. Ci serve del tempo. Di raga, ma io le voglio bene a rebeiro, mi piaceva anche, in realtà l'avrei preso molto volentieri. Ma così si sta esagerando, cioè. 5.4 vogliono. Allora, andiamo un attimo a trattare perché non so se ce la facciamo. Ah, 5.4 senza nessuno. Eh, ma non so questo quanto prende. 4.8? Dai, 4.8. 5.4. Però adesso stai rompendo le scatole, eh. Adesso stai rompendo tutte le scatole. C.4. E no. E8. E8. 6. 5.4. E non so, a parte non ce li ho 5.4. Qui spero basti così. Che vi posso dire? 5. 5.4 lo vi dice. 5 più Diogo Silva l'ha accettato. Meno male. Mo' bisogna avere degli appa, mo' vi sordi a prendere i beiro. Quello è l'ideale. Quello sarebbe importante. Ok, ce la dovremmo fare. In questo modo ci teniamo anche il portiere giovane. Che io presterei, ma non so se gli basterebbero. Mo' ci proveremo un attimo. Intanto l'abbiamo preso. Non è esattamente la cipra che speravo, ma va bene così. Ora abbiamo l'ultimo giorno di mercato. Se io riesco a prestare il nostro secondo portiere, quindi Freli, tanta roba. Se non ci riesco non fa niente. Me lo tengo come bici, faccio crescere gli altri, va bene così. Però la squadra è cresciuta molto. Abbiamo Ribeiro, abbiamo Carmo, abbiamo Mandanda. Mi piace molto come è cresciuta la squadra. Io sono pronto a simulare. Voi vedrete tra un pochino. Io nel frattempo metto i piani di crescita e spero anche che la squadra possa piazzare il portiere in prestito. Ci vediamo a giugno e vediamo come va il primo anno. Allora, siamo al primo giugno 2022. Torniamo indietro e vediamo come è andata questa prima stagione. Allora, ad agosto avevamo visto settembre. Pareggiato, pareggiato, perso. Male. Ottobre vinto, vinto in Coppa, perso. Novembre, perso, vinto, vinto, vinto. Dicembre, vinto, 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 pareggiato. Gennaio, perso, vinto, perso, vinto. Febbraio, pareggiato, pareggiato, vinto, vinto, pareggiato. Perso in Coppa a marzo, perso, vinto, perso. Vinto, vinto, perso, vinto, perso. Pareggiato, vinto. Eh, non abbiamo fatto benissimo. Cioè, non male, ma potevamo fare sicuramente meglio. Però per essere più scarsi. Quindi, ecco, non ho la più fallida idea. E il Benfica sesto avrà sicuramente vinto l'Altasa portoghesa. Oddio, ha vinto il Vitoria. Si chiama Vitoria, grazie a cazzo che ha vinto. Ed è arrivato settimo. Me la prendo in Derkul. Secondo me non mi qualifico in niente, lo sapete. C'ho questo presentimento che non mi qualifico in nulla. Comunque ho fatto una grande stagione. Loro non possono che essere contenti di me. Se non siete contenti va attaccato o cazzo. Andiamo a vedere come sono andati i nostri giocatori. Allora, Mandandai scelto di 3, io ho la 76. Ha fatto 23 presenze. Tutte 23, perché sono 23. Quindi non si cresce manco troppo. Andrew sale di 1, va a 66. Araugo sale di 2, va a 66. Freely sale di 4, va a 75. Attenzione perché Freely tra due anni, ragazzi, è a titolare. Ma forse anche l'anno prossimo poteva essere titolare già Freely. Questa cosa va valutata. A sinistra, Mugno Davare, segna da 76, salendo di 3, 3 gol e 4 assist. Gomez in panchina, sale di 2, va a 71. Difensore centrale abbiamo Carmo. 32 partite, 1 gol, 4 in più. Quindi 77. Ribeiro, 18 presenze, sale di 2, 73. Fernandez scende di 5, va a 64. Ok. Silva sale di 3, va a 66. Cugna, 16 partite, 0 gol e 0 assist, sale di 1, va a 71. Mentre Z Carlos, Z Carlos, in prezzo, donario a 76, porca la vacca. Come lo prendiamo l'anno prossimo? Questo quanto vale? 10 milioni, rinnoviamo più. Siamo presa in der culo. Hackman, sale di 2, va a 69. Vole un rinnovino di contratto. Io lo possiamo anche concedere, magari non così basso. Magari 4, 7, sì. A certi momento abbiamo Petrinho, che fa 76 presenze. 76 presenze, 38 presenze. Scusami un attimo, no. Allora, c'ho una domanda. Io c'ho una domanda a questo punto. Cioè, mi dovete concedere una domanda. 23, 0, 0, 0. Chi cazzo ha giocato un Porto alle altre 20 partite? Ma chi ha giocato? Cioè, non ho parole, scusatemi, eh. Ma che senso ha? Boh, vabbè, non lo so. Non so chi abbia giocato un po'. Forse, non lo so, ha giocato Z Carlos in Porto. Vabbè, Petrinho, 7 gol e 3 assist in 38 partite. Sali di 6, di 1 va a 76. Fujimoto, sali di 2, va a 74. 5,8 assist in 37 partite. Poi abbiamo Cagliato, a centrocampo, che sali di 3, arriva a 64. E a Buriania, che sali di 1, arriva a 65. Sulla tre quarti abbiamo il grande Ghilherme Pinto, che sali di 6, arriva a 74. 24 partite, un gol e 5 assist. Bueno, sali di 3, arriva a 67. Mentre Lino, sali di 4, addirittura, ragazzi, arriva a 78. Mamma mia, Samuel Lino, 38 partite, 10 gol e 3 assist. Anne, sali di 2, arriva a 74, non giocando mai. Murillo, fa 38 gare, 12 gol e 2 assist. Sali di 1, arriva a 76. Awasceria, sali di niente, fa 16 presenze, 2 gol e 1 assist. 27 le gare di Leauti, perché tutti hanno giocato così tanto qui. 3 gol e 4 assist, arriva a 70. Navarro, fa più 3, arriva a 76, 22 gol. Santana, fa 8 partite, 2 gol, arriva a 66. Calero, fa 3 partite, sali di 2, arriva a 63. Dos Santos, sali di 1, arriva a 66. Allora, non mi posso lamentare. Soprattutto perché la squadra è forte, forte, forte. Io l'anno prossimo sto seriamente pensando di... Mo lo vediamo, ma di andare a prendere solamente Carlos. Quindi di andare a riprenderlo con tutto il budget che ci daranno. Andiamo all'anno prossimo. Allora, in questa seconda stagione sarà importante prendere un terzino destro o riprendere il nostro terzino, ma soprattutto sto vedendo che Mandanda sta calando sempre di più. E quindi la mia provocazione è riprendiamo Freyli, lo blocchiamo, mentre Mandanda si va a vendere, l'ho già messo sul mercato, anche se vale circa un milione, perché non può più fare il titolare. Detto questo, a sinistra abbiamo Tavares, ce lo teniamo, e Gomez ce lo teniamo. Al centro abbiamo Carmo che vuole un ritocchino di stipendio, eccolo a te. Ribeiro, stessa storia e al momento ovviamente si tiene. Fernandez e Silva, allora su di loro c'è un discorso da fare. Silva me lo posso anche tenere come panchinaro a dirvi la verità. Cugna me lo tengo assolutamente come panchinaro. Mentre Fernandez, se accettasse, insomma sarebbe carino venderlo. A destra abbiamo solo Ackman, che va anche bene. Se non fosse che però Ackman bisogna necessariamente farlo diventare un secondo e mettergli un titolare davanti. Questa sarà proprio la cosa fondamentale da fare, infatti sto bloccando i giorni che non partono, per questa stagione. Al centro campo abbiamo Pedrinho, che ovviamente rimane, Fujimoto, che ovviamente rimane. In panchina abbiamo questi due, che mi vanno benissimo. Cagliato e a... anzi, Cagliato e questi a Buriania. Su altri quarti abbiamo Pinto, che vuole un ritocchino... Sì dai, 1.200 vanno più che bene, 1.600, ok, perfetto. E Bueno, che... scusate il gioco di parole, è Bueno come gioco, tra l'altro assurdo, è Bueno prenda così tanto in più di Pinto. Pinto è titolarissimo, Bueno no. A sinistra abbiamo Lino e Anne. Lino vuole un rinnovino, oggi sono veramente pessimo. Io lo concediamo, 12.000 va bene. Anne lo teniamo come vice. Mentre a destra abbiamo Murillo, che è il nostro titolarissimo. Oddio gli ho fatto 16.000, è un botto, va bene dai. Auceria, che è un panchinaro, Leautei. Allora, attenzione perché Leautei è cresciuto, nel silenzio è cresciuto. Quindi Leautei si tiene. Auceria, se riusciamo, sarebbe buono cederlo. In attacco abbiamo Navarro, che è il nostro titolare. Poi abbiamo Santana, che va venduto. Dos Santos, che è il nostro panchinaro. E Calero, che se riuscissimo, sarebbe bene cederlo. Detto questo, quindi bisogna prendere necessariamente un terzino destro. Io non vi nego che andrei a prendere Zegarlos, che è il nostro titolare. 76-23 anni, costa praticamente tutto il nostro budget. Però mi importa poco, perché io voglio lui. Cioè, io voglio lui e basta. Non è che voglio fare sto gran mercato. Voglio uno 12,7. Secondo me si può ancora risparmiare qualcosa. Facciamo 10,700. 11,7. Per me a 10,7 chiudiamo, ve lo dico, perché li vedo molto proiettati. 11,7. Dai, facciamo 11, vediamo un attimo, perché il giocatore non prende 4,500. 11 hanno accettato. Ritorna da noi, Zegarlos. La squadra per me, ragazzi, è forte. Quindi non è che bisogna fare chissà che trattative per portarcela a casa, chissà quali acquisti per diventare forti. Siamo già forti così, per quanto mi riguarda. 5 anni di contratto li accetto molto volentieri. Ignoriamo la class, la vuole un sacco di soldi. Rimuoviamo i bonus. Ok, eccolo qua. L'abbiamo preso. Zegarlos è nostro. Allora, il titolare a destra l'abbiamo preso. Detto ciò, di base, non dobbiamo fare nient'altro. Aspetto un attimo, perché abbiamo ancora 5 milioni. Ma in realtà non aspetto per i 5 milioni. Aspetto perché mi piacerebbe piazzare il portiere. Mi piacerebbe piazzare Mandanda. Che al momento, insomma, capite bene che è d'intraccio e potrebbe non far giocare il nostro super giovine. Quindi, allora, vediamo se ci sono offerte. Suggerimenti, nulla. Deve giocare il giovane. L'ho messo a ridolare? No. C'è Mandanda ancora. Tanto Carmos è guadagnato la convocazione. Bravo lui. Freyli deve giocare. Freyli sperando che cresca nel modo più rapido possibile. Prima mica io volevo vinciamo 4-0. E' un buon inizio, eh. E' un ottimo inizio, anzi. E' un fantastico inizio. C'è anche lo Schalke 0-4. Vinciamo 1-2 anche con lo Schalke 0-4. Si ricordi di usare i gambi? Non mi ricorderò mai di usare i gambi. Regate, mi piazziamo Mandanda e dai. Prendetecelo. Contro l'Udinese perdiamo ma siamo passati. Affronteremo il Saint Etienne. Ci danno 800.000. Dobbiamo venderlo per forza Mandanda. Se no finiremo a svincolarlo. Tanto vinciamo e ricordiamo anche contro il Saint Etienne. Quindi riaffronteremo l'Udinese in finale. E' arrivata un'offerta per Arauco. Ma io posso anche darvelo a Arauco. Però non ve lo do perché me lo tengo come secondo portiere. E' vero che era un milione e mezzo ma tanto al momento non abbiamo bisogno. E mi interessa solo vendere Mandanda adesso. Abbiamo vinto il torneo precampionato. Pazzesco. Arrivano un sacco di soldi. E basta con sto Arauco. Me lo tengo. E che cazzo. Cioè mi chiedono il portiere che non voglio vendere. Allora andiamo avanti. Se no raga che si fa qui? Che si combina? E' un casino? E' un macello? E' un marcello? Venduto Fernandes per 310.000. Venduto anche per 1.300.000. Allo Spezia Awasheria. Ma sono curioso quando inizia il campionato di vedere come partiamo. Perché per me quest'anno siamo da vittoria del campionato. Cioè non voglio esagerare. Però ho sto sentore. Quest'anno se noi possiamo farcela. Venduto Mandanda per 900.000. Allora sono curioso di una cosa. In mediana noi non abbiamo mediani. Giusto? Noi non abbiamo mediani. Quindi in mediana non abbiamo nessuno. No allora abbiamo 11 milioni. E' uno spreco non prendere nessuno con 11 milioni secondo me. Però la squadra è molto giovane. Guarda giusto forse Pedrinho si può vendere. Se lo vendo c'ha 76. Magari riesca a prendere un 80 centrocampo addirittura. Comunque la valutazione che faremo andrà fatta nel modo più sensato possibile. Anche per far partire il nostro centrocampista. Perché qua secondo me. Da quello che ho visto di Renato Sanchez vale 60 milioni. Quindi come lo prendiamo? Tanto vinciamo al debutto in campionato. Allora Mateus Nunez vale 82-23 anni. Vale 43 milioni e mezzo. Quindi non possiamo mai prenderlo nella vita. Ma Braganza a me mi interessa. Capi quanto c'ha. Eppure Vitigna. Perché se questi riusciamo a prenderli. Uno tra questi. Jetson Fernandez. Cioè se riuscissimo a trovare anche uno stesso 76. Ma qualche anno più giovane. Sarebbe ottimo. Intanto c'è la gara contro il Braga. La seconda giornata di campionato. Vinciamo 3-2. Allora prendiamo un po' di tempo. Siamo in agosto in oltrato. Questa è una mossa che si potrebbe anche non fare. Però visto che abbiamo 11 milioni. Alla Santana ha venduto per un milione. Circa a Los Angeles FC. Sappiamo tutto su Jetson Fernandez. Ha 79-23 anni. Però vale 24 milioni. Attenzione. Ecco. Jetson Fernandez forse sarebbe proprio l'ideale da prendere. A centrocampo. Se ci riuscissimo. Tanto vinciamo anche 2-1 l'ultimo match. Madonna raga. Stiamo facendo una cosa rischiosissima. Secondo me rischiamo di trovare l'accidenza centrocampista. Per un capriccio. Però se riuscisse sarebbe una gran cosa invece. Allora. Arrivato l'esoponto su Eustachio. Che ha 77-25 anni. Lo teniamo in considerazione. Ma è un mediano. Il partito Pedrinho quindi per 16 milioni al Fosburg. Gallero per 700 milioni al patronato. Poi arrivano tre notizie. Braganza vale 22 milioni. E anche lui ha già dato che si può prendere. E mi sembra positiva come cosa. Poi abbiamo tutto su Sergio Oliveira. Che ha un 80 ma ha 30 anni. Quindi se potessi prendere altro. E poi Mitigna. Che c'ha 81 ma vale 52 milioni. È una cifra che non possiamo permetterci. Quindi per quanto riguarda i soldi e quello che possiamo fare. Jetson Fernandez vale dai 30 ai 43. Mentre Braganza vale dai 28 ai 40. Allora proviamo a prendere Jetson Fernandez. Ma questi soldi noi non li abbiamo in partenza. Noi abbiamo 26. Quindi noi partiamo bassi con 22 milioni. 34. Eh ma raga è un casino. Allora 22 riproviamoci. 34. Niente non calano. 24 allora. Cioè cerchiamo di andare incontro. 34. Non lo prenderemo mai Jetson Fernandez. 20, 26. Hanno accettato 26. Ma che cazzo. Ma scusate ma come è possibile. Allora lo prendiamo. Tutta sta storia alla fine hanno accettato un'offerta bassissima. Secondo me prende pure 14.500. Non so quanti soldi vogliono da noi. Ma lo rubiamo anche al Benfica. Quindi insomma. Ragazzo sono emozionato. Allora vogliono questi soldi. Cerchiamo di risparmiare più soldi possibili. Perfetto. Preso. Preso Jetson Fernandez. L'anno prossimo. L'obiettivo sarà quello di prendere anche Braganza. Tra gli altri. Se non dovessi vincere quest'anno il campionato. Regalo mettiamo subito vicino a Fujimoto. Eccolo qua. Jetson Fernandez. La nostra squadra secondo me è tanta tanta roba. Forse un pochino corta. Ecco questo sì. Però secondo me è tanta tanta roba. Allora. Adesso non ci resta che andare a vedere come andrà questo campionato. La squadra è fatta. Noi ci vediamo a giugno. Non abbiamo. Non lo so. Fammi vedere se abbiamo Europa. Giusto per curiosità. Ma adesso ti prenderà un po' di tempo per fare tutte le simulazioni del caso. Allora. E abbiamo la conference. Vitesse. Questi cazzo sono. Rakov. E questi chi è? Randers. Ragazzi. Andiamo a giugno. Vediamo come va. E magari subito l'anno buono. Dai. Allora primo giugno 2023. Vediamo com'è andata. Perso. Pareggiato in conference. Vinto. Vinto. Vinto in conference. Bene. Pareggiato. Vinto. In coppa. Vinto in conference. Perso. Vinto. Novembre. Vinto e vinto in conference. La conference l'avevamo superata. Vinto. Perso in coppa. Vinto. Perso in camp... Perso. Perso in campione. Pareggiato in conference. Vinto. Pareggiato e vinto. Vinto con il Benfica. Gennaio vinto. Vinto. Vinto e vinto. Ottimo. Febbraio. Pareggiato. Pareggiato. Vinto e vinto. Marzo eliminato il club russo in conference. Tanta roba. Ha perso con il Benfica. Però ha perso con le storie e vinto. Aprile perso e perso. Siamo fuori ai quarti contro il Fosburg. Vinto. Pareggiato. Pareggiato. Vinto. Vinto. Perso. Maggio vinto. Siamo arrivati. Cazzo. Terzi. Meno tre. Ero certo che stavolta ce l'avremmo fatta. Ero certo. Poi manco la Champions prendiamo. Prendiamo l'Europa League. Che peccato raga. Che peccato. Abbiamo fatto una gran stagione. Madonna. Il Porto ha fatto 12 pareggi. Abbiamo fatto solo una sconfitta in più dello Sporting. Avessemo vinto quella partita. Li avremmo presi. Questo è un peccato madornale proprio. Questa è la nostra squadra. Eccola qua. Diamo un'occhiata. Allora. Fra Elisa e Aledito arriva 77. Comunque ogni anno mi chiedono dei rinnovi questi. Allora. Rinnoviamo subito. E basta. Senza mi rompe i di coglioni ogni tre minuti. Andrew sale di 2 arriva a 69. Arauco sale di 2 arriva a 68. Tavares sale di 5. Addirittura arriva a 82. Due gol e 5 assist. Andrew perché ha fatto 10 partite? Voglio capire perché Andrew ha fatto 10 partite. Maledetto di un Andrew. Vabbè. Gomez sale di niente. Rimano a 71. Fa 5 gare. Carmo ne gioca a 38. E Ribeiro a 37. Carmo sale di 3 arriva a 80. Ribeiro sale di 3 arriva a 77. Due gol e 2 assist. Cugna fa 26 partite. Un gol e un assist. Sale di 2 arriva a 73. Silva fa 4 partite. Ze Carlos fa 45 gare. Quattro gol. Sale di 5 va a 81. Ackman sale di 1 arriva a 70. Fa 10 partite. Jetson Fernandez fa 45 gare. 6 gol. 2 assist. Sale di 2 va a 81. Ottimo acquisto. Anche Fujimoto fa benissimo. 9 gol e 8 assist. Sale di 5 arriva a 79. Cagliato sale di 1 arriva a 65. Fa 2 presenze. 0 presenze per il Georgiano Aburiania. Mentre Pinto sale di 5 arriva a 79. Nonostante abbia solo 17 anni. 5 gol e 8 assist. 4 gol e 1 assist per Mateus Bueno. Che sale di 2 arriva a 69. Lino ragazzi ha fatto una stagione pazzesca. Fa 23 gol. 8 assist. Sale di 5 arriva a 83. Mamma mia. Anne fa 9 partite. Sale di 3 va a 67. Murillo fa 46 gare. Murillo. 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 46 gare. 10 gol. 5 assist. Sale di 2 va a 78. 19 le presenze invece di Lautei che fa 2 gol e 2 assist e rimane a 70. Navarro fa 45 partite. 15 gol. 2 assist. Sale di 4 arriva a 80. Dos Santos fa 19 gare. Fa 3 gol e arriva a 67. La squadra è formidabile secondo me. Tanti Uber 80. C'abbiamo già 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori che hanno 80. L'anno prossimo dovremo cambiare realmente poco a mio modo di vedere. Però cercheremo di fare il massimo. E allora prossima stagione. Allora accettiamo questo torneo pre-campionato. Tutto uno dei campioni. Ma soprattutto bisogna capire delle cose. La prima è quasi dopo 25 milioni un botto. La seconda è quella di rinnovare i contratti della gente triste o in scadenza. Tipo Andrew nonostante non voglio che giochi più nella vita. Lo rinnovo perché se si dovesse farmare Ferry mi serve. Così come mi serve anche Arau. Poi alla fine tre portiere ci fanno ruolo. Tavares ok. Non è in scadenza. Gomez ok. Carmo ok. Ribeiro ok. Incunia vuole un ritocchino. Glielo possiamo concedere ma sotto i 10.000. Gli diamo 7.500. 8.100 va bene. Silva. Come panchinaro mi ci sono trovato bene. Quindi me lo tengo anche se vuole una clausa. Zecarlos è perfetto a destra. Stavo contato abbiamo 4 sì. Zecarlos è perfetto. Hackman è perfetto. Fernandez 81. Fujimoto 79-24 anni. Anche su Fujimoto bisognerà prendere delle scelte. Abbiamo visto una cosa da 100.000.000 Fujimoto. La madonna. Magari ci cascano. Cagliato 65-24 anni. Io sarei per venderlo Fujimoto. Se riuscissimo a rientrare dei soldi per prendere poi. Aspettate ma facciamo un calcolo. Lui rimane pinto. Ovviamente gli si ritocca il contratto. Dandogli 5.800. Perfetto. Bueno 69-24 anni. Lo teniamo e gli diamo 6.100. Lino 83-23 anni. Gli abbassiamo sicuramente. La cifra 16.000. Ok 20.000. Anne 67-24 anni. Si tiene assolutamente sì. 4.400. Anche lui vuole la clausola. Murillo si tiene. L'Autei si tiene. Navarro anche lui vuole un rinnovo. Che panni costi di noi ragazzi. Però gli li diamo a tutti quanti. Eccolo qua. E Dossantos rimane qua. Piccola curiosità. Cioè quella di cercare di capire se ci sono già di scadenza. No. Allora vi dicevo. Voglio capire Braganza. A quanto è arrivato. Vitigna 83-23. Ok. 80-24 anni. Il nostro. C'ha meno di 24 anni. Fujimoto. Fatemi vedere un attimo. Fujimoto c'ha 24 anni. 79. Vabbè ma non ne vale però così tanto la pena. Cioè. Allora. Riuscissimo a prendere. Realmente. Magari Vitigna. Sono il primo a dirvi. Facciamolo. O Nunez. Però questi sono giocatori che non sono in scadenza. Neanche Nero Sanchez. Maledetto. Ma uno in scadenza. Cioè. Vitigna. Non è in scadenza. Costano 6.70 milioni. E. Allora. Noi ce ne abbiamo 25. Se riuscissimo a monetizzare. 30. 5. 4. 5. 6. 6. Vediamo un attimo. Quanto si riesce a monetizzare. Dalle eventuali cessioni di Fujimoto. Perché. Il discorso è che. O si vende Fujimoto. Oppure. Vabbè. Ribeiro in realtà. Si dovrebbe mettere a morire. O io me lo tengo. Ribeiro. Forse un difensore centrale portoghese. Che magari non sia Ruben. Ruben Diasce. Perché non c'è una lira. Madonna Ruben Diasce. 90. Cioè. Allora. Facciamo a stare un po' di giorni. Così cerchiamo anche di capire. Cosa possiamo fare della nostra vita. Sì. Forse si può comprare un difensore centrale. Ma ci deve almeno 80. Perché se no è inutile anche questo fatto qui. Si spediamo immediatamente al mittente. Perdiamo il debutto col Brighton. Ma il nostro portiere è arrivato a 80. 77. Ali Mortacci. Forse per vincere il campionato. Ci manca giusto il portiere. Comunque vinciamo con il Burnley. Nel frattempo. Allora. Arrivano offerte per Fujimoto. Io andrei a trattare. Perché Fujimoto fino a 62 milioni. Mi dicono che li vale. Prova a chiedere proprio 62. 47. 60 milioni. Hanno accettato 60 ragazzi. E allora in questo caso le cose cambiano. Quindi Fujimoto può partire. E io andrei a prendere un altro centrale. Molto molto forte. Per rinforzare appunto il comparto mediano. Intanto passiamo nel torno a precampionato. Anche se ormai. Allora. Venduto Fujimoto per 60 milioni. Ignacio. Interessa la ferritina per 48 milioni. Allora. Fatemi un attimo capire una cosa. Andiamo a prendere subito il sostituto. Del nostro centrale di centrocampo. Quindi andiamo subito a centrocampo. Andiamo su. Alla Braganza no. Nunez 68,95. Sanchez 66,93. Vitigna 65. Io proverai a prendere Renato Sanchez. Proviamo a prenderlo. I soldi ce li abbiamo. Partendo però da 50 milioni di euro. Non esageriamo perché ce li abbiamo a fine una certa. 80 qua. E' la madonna. E' la ma. E' la madonna. 53 e 344. 84. Certo però che esagerano. Cioè se c'è un minimo e c'è un massimo. Uno mi voglia del massimo. 53 e 84. Mi sa che noi rimaniamo qua. Allora 60. Cerchiamo di alzare leggermente la cifra. Che hanno bisogno un po' per riflettere. Cazzone da riflettere. Riflettete. Allora. Però nel frattempo mi ci vuolano ignacio. Se loro riflettono. Vale 37 milioni e mezzo. Ma non è in scadenza però se non sbaglio. Vero ignacio. Allora ignacio. Mi faccio a saperlo. Maledetto di un ignacio. Non sappiamo altro di ignacio. Scusate ma. Quanto ha offerto la fiorentina per ignacio. Fatemi vedere. 48. Allora. Ho paura che per la voglia di cambiarne due. Non ne cambiamo nessuno. Allora. Proviamo a prendere un attimo ignacio. Cerchiamo un attimo di capire una cosa. Allora se io sto dentro il mio difensore centrale. Ma poi ignacio ce l'avrà. Cioè tipo il mio difensore centrale questo qua. Vale 12. Madonna che schifo. Così è fortissimo allora ignacio. Gli do 12 più 20. Quindi per un totale di 32. 61. Termina trattativa. Ciao. Grazie per avermi dato informazioni. Mi tengo il mio. E tu da tieni il tuo. Allora. Per inaccettabile vogliono 82 per Renato Sanchez. Sì 82 non ce li ho. E non glielo dare nemmeno se ce li avessi in realtà. Però non ce li ho. 60 milioni. Dai dai dai. 79. Eh ma ragazzi. Qui caschiamo male tutti quanti. 63. 79 e 4. Eh vabbè. 60 e 4. Hanno rifiutato e si sono anche incazzati. Va bene. Cambiamo obiettivo allora. Renato Sanchez non fa per noi. Parlavamo di Vidigna. No Vidigna ancora di più. Di Darwin. No di Mateus Nunez. Proviamo a capire. Dai. Tanto se lo prende solo lui possiamo anche alzarla un pochino sta cifra. Però noi partiamo da 50 milioni. 71. Però come vedete almeno loro abbassano. Partono da un po' più bassi. 56. 71. Non aumentano però già è qualcosa. 53 e 6. 71 e 6. Abbassate cazzo. 55. Ci hanno bisogno di tempo. Comunque se prendiamo il centrocampista raga abbiamo fatto un colpaccio. Poi se sentite l'umore è perché sto a coger il pollo. Ma questo è un altro paio di mani. È un altro paio di mani. Inaccettabile 56 per me sì. Assolutamente. Manco rientro a trattare guardate. 56 mi va benissimo. Detto ciò prendiamocelo. Turnover ovviamente. Sto scherzando fratello ci si è cascato. 4 anni accettiamo. Spero che... Eh no. Spero un cazzo. Quanto chiedo? 60 che va bene. È un botto ragazzi per me. E infatti accettano. È veramente un botto per me. Allora. Detto ciò quanti soldi ci sono rimasti? Allora facciamo un attimo un breve calcolo. Ci sono rimasti 24 milioni ma non c'è rimasta una lira di stipendio. Quindi ci sono rimasti tipo 21 milioni. 21 milioni. Se ci diamo quel giocatore lì. Quindi Ribeiro. Avremo 12 milioni. Fa schifo Ribeiro ragazzi. È veramente cagare. 12 milioni. Ne avremo 15. E quindi arriveremo ad averne circa una quarantina. Che ci prendiamo con 40 milioni nella grande... Sicuramente Ferro mi fa cagare. Quaresma ma mi sembra faccia cagare anche lui. Sicuramente però meglio di... Meglio del nostro. Quaresma. Quaresma è più giovane. Non lo so. Aspettiamo un attimo. Il nostro c'ha 77. A me piacerebbe che c'è almeno un difensore c'ha B80. Ecco perdiamo i ricordi con il Montpellier ma... Non si può sempre vincere il torneo precampionato. Allora Quaresma c'ha 76. C'ha meno del mio. Ma santo cielo. Ignano c'ha 81-21 anni ma... Non abbiamo quei soldi. Ha reso conto. Ah questo l'avevamo già visto. Premio torneo. Un vero peccato. Ma un vero peccato che... Attenzione abbiamo la qualificazione in Champions ragazzi. Ma adesso mi sorge un dubbio. Non è che niente niente riusciamo a passare contro i Rangers e a farci dare tipo 20 milioni di euro. No eh. Proprio così esagerare in modo che riusciamo poi a prendere... La 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 la... De Cesbio... De Cesbio... Perfetto. Allora reso conto su Ferro. Ferro quanto c'ha 77-26 anni e fa cagare. Poi abbiamo un'offerta per ripeno di 14 e mezzo. E poi anche dall'Atalanta. Allora trattiamo per provare a prendere un 21 milioni tipo. 21 e mezzo. 14 e mezzo. Eh però siete stronzi. 21 e basta. Dai i palazzi di cristallo. 14 e mezzo. Eh vabbè raga ma così come si fa? 20. Ma le che vado prendo guanesma tanto. 20. No. Ciao. Ciao. Vierà. Tirchio di merda. Trattiamo con l'Atalanta. Con l'Atalanta. 20 milioni. Allora. 20 milioni. Vediamo un po'. 14 e 8. Ma questo è il valore del giocatore eh. Cioè le altre li fa cagare che... Santo paradiso. 19 milioni. 14 e 8. 18 milioni. Eh dai mi sto abbassando. Niente. Niente. E vabbè ma mica fa così tanto cagare per Ribeiro. Cioè se lo volete tutti. Perché lo volete? Tanto ci abbiniamo al match contro i Red Rolls. Tosta però eh. Sono più forti di noi. Anche se poi in realtà noi abbiamo tranquillamente superato diversi turni importanti di... Vabbè di conference. Però. Allora. Match day. Fatto che arriva 14 e mezzo. Noi deleghiamo direttamente a... Da 21 a 18 e mezzo. Vediamo se ci danno. Nel frattempo mettiamo titolare e il nostro centrocampista abbiamo preso perché sta giocando Annè. E quindi ci mettiamo Nugnes. E già la squadra è più forte. Ma poi vi ripeto secondo me serviva un portiere più che altro. Mo penso se poter cambiare il portiere. Vediamo come va l'andata. Vinto 4 a 1. Attenzione ragazzi. Attenzione perché qui la seconda esce non cambia. Tanto pareggiamo 1 a 1 in campionato ma non me ne ho fottono cazzo. Va bene così. Allora. C'è il ritorno. Cerchiamo di non perdere 4 a 0 perché sennò siamo delle fave. Vinciamo 1 c'è il Ione. Madonna quanto è tosta però. Allora nel frattempo ci arriviamo 16 a 3 per Ribeiro. Io come sempre vado a chiedere 29 e qui 18 a 3 dai. Ma che poi pure fosse secondo me non abbiamo quei soldi. Vabbè magari prendiamo un altro di un'altra nazione. Ne dobbiamo prendere sempre quelli portoghesi. Però se si può è meglio. Il mio cazzo l'ha detto di no. Loro per 19 milioni hanno detto di sì. Lione. Oddio gli sto dando proprio a Lione a Ribeiro cazzo. Sto rosicando. Rosico. Rosico se arriva prima della partita. Rosico aspettate un attimo. Aspettate ad accettare. Non accettate. Non accettate. L'anno da da Lione. Prima. Però sono solo una fava. E poi sono due fave. Quindi siamo tre fave. Sono tutti uguali. Siamo tre fave. Allora. Ignazio alla fine ha andato alla Fiorentina. Voglio proprio quanto cazzo gli ho offerto alla Fiorentina. Per prendersi Ignazio. Allora. Io gli offro 35 milioni alla Fiorentina. Guardate quanto sono magnanimo. No. Ma non accettiamo la porca la botana. Allora. Ma veramente ragazzi siamo messi così tanto male. Eccolo. L'ho trovato. 83, 26 anni. In scadenza. Zubeldia. Mi sembra perfetto. Spagnolo tra le altre cose. 30 milioni per te. Vediamo che ci dicono. 37,5. Ma per me vi dirò. Abbasso perché risparmiamo a 33,5. 37,5. Non mi abbia fatto una offerta ribassata. Dovrebbero accettare. 34,5. Però ci siamo eh. Hanno accettato 34,5 alla Real Sociedad. Ben certo. La Real Sociedad a noi. Cioè avete capito? No. Insomma. Piamo solo e basta. Allora. Beh. Cruciale. Tanto che io fa fa questo. Magnifico. Quattro anni. Li accetto. Lui sarà il giocatore che ci porterà ai gironi di Champions. Mi piacerebbe. Allora. Gli offro 50 mila. Ok. Accettato. Perfetto. Ho preso Zubeldia. Allora. A questo punto. Lo metto titolare. E bisogna pregare che. Insomma. Io. Penso che comunque noi. Ecco. Ho sbagliato. Penso che comunque. O come è squalificato in Champions. Ma io vi odio. Ma quanta possibilità c'era che Zubeldia fosse squalificato in Champions. Ragazzi. Facciamo stando da con Lione. Avevo vinto a Lione. Attenzione. Attenzione. Avevo vinto a Lione. Andiamo avanti. C'è un ritorno da giocare. Stavolta dovrebbe giocare Zubeldia. Si spera. Allora. Qua mi ho vinto 4 a 0. Intanto. Tornato. Zubeldia. È a disposizione. Mi diverò un pericoglioni. Suggerimenti per la scelta contro le storille. Metti Zubeldia. C'è già Zubeldia. Allora. Discorso è questo. Se dovesse arrivarmi. Magicamente i soldi. Perché passo il turno. Posto poi che io passi il turno. Allora io alzo le mani. E prendo. Vediamo. Ah. Vediamo. Hanno vinto. Non ci posso credere. Allora. Se mi arrivano soldi. Prendo un portiere anche. Se no. Rimango così. Vediamo. Non mi è arrivata una lira. Evviva. Allora. Vabbè. L'importante era quello. Raggiungi i quarti di Champions. Ma che cazzo. Ma siete pazzi. Vediamo il girone. Chelsea. Bilbao. E Slavia Praga. Vabbè. Non è male. Cioè. C'è il senso. Poteva andarci molto peggio. Per quanto riguarda il girone. Fra lì. Quanto vale? 10 milioni. Ma che ce faccio? Ma che prendo un portiere? No. Rimango così. Dai. Credo nella mia squadra che possa vincere il campionato. Andiamo a simulare. E incrociamo edita. 7 giugno. Allora. Primo giugno 2024. Torniamo indietro e vediamo com'è andata. Allora. Perso col Chelsea. Vinto con il Bilbao. Vinto. 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 Pariggiato con lo Slavia Praga. Vinto. Perso in Coppa. Perso. Vinto. Pariggiato con lo Slavia Praga e Chelsea. Ecco. Lo Slavia Praga che pariggiamo. Andate e ritorno. È un problema per la Champions. Vinto. Vinto. Pariggiato con il Bilbao. Noi siamo usciti dalla Champions. Vinto. 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 E pariggiato. Ci interessa il campionato. Vinto. 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 Perso. Siamo in Europa League. Eliminato lo Young Boys. Vinto. Vinto. Eliminato il Clasare. Siamo in quarti di Europa League. Perso. Perso. Vinto. 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 Eliminato il Betis. Siamo andata in semifinale con lo United. Vinto. Pariggiato. Pariggiato. Vinto. Perso. Usciti con lo United. Vinto. Avremo vinto il campionato quest'anno. Sì. Campioni di Portogallo. Campioni di Portogallo. Campioni di Portogallo. Più 8 ragazzi. Abbiamo fatto anche un gran percorso in Europa secondo me. Cioè guarda. Allora. In tasa portoghese non abbiamo vinto. Perché tanto non la vincemo mai. Nei coppie lo sapete. C'hiamo dei problemi con le coppie. Vabbè. Primo turno siamo usciti. Però abbiamo fatto una gran competizia. Guardiamo un attimo la nostra squadra. Freli è salito di due. Alla 79. Chiude con 79. 26 anni. Andrew secondo portiere con 70. 22 anni. E Arauco come terzo portiere con 70. 24 anni. A sinistra abbiamo Tavares. 85. 24 anni. E Panchinaro Gomez. Che è stato in giro di imprese. 72. 28 anni. A destra abbiamo Carmo. A centrale abbiamo Carmo. 81. 24 anni. E Zubel Dia. 84. 27 anni. Poi Panchina abbiamo Guillermo Isilva. 67. 22 anni. E Cugna. 74. 27 anni. A destra Zecarlos. Sale di 3. 84. 25 anni. E Acma. Che chiude con 71. 29 anni. Al centrocampo abbiamo Gerson Fernandez. Che chiude con 82. 25 anni. Lugna si chiude con 87. Quanto ha fatto? 15. 18 assist. Madonna mia. Vabbè pure bene Fernandez. 9. 9. 87. 25 anni. Cagliato. 66. 25 anni. A Buriania. 66. 29 anni. Su altre cose abbiamo Pinto. Che chiude con 84. 18 anni. 3 gol e 2 assist. Stessi in realtà. No. 2 gol e 3 assist. In realtà ma più o meno è quello di Bueno. Che però è 70. 25 anni. Alla sinistra abbiamo Lino. Arrivato addirittura a 87. 24 anni. 24 gol e 10 assist. Come secondo Annè. Chiude con 68. 25 anni. Adesso abbiamo Murillo. 81. 29 anni. 18 gol e 9 assist. Lautei. 71. 28 anni. Al Panchinaro. In attacco abbiamo Navarro. Chiude con 85. 26 anni. 31 gol. E poi Dos Santos. Chiude con 68. 26 anni. A livello di gol ragazzi. 31 Navarro. 24 lino. 18 Murillo. 15 Nunes. Assist. 18 Nunes. 10 lino. 9 Fernandez. 9 Murillo. Avete visti. Insomma. Non mi posso lamentare. Statistiche giocatori. Non abbiamo vinto nessuna classifica capocannonieri. Perché meglio di Navarro erano fatti 18. 18 Navarro. Quanti cazzi erano fatti in Europa? Vabbè. Non erano fatti 30 in totale Navarro. 20 Malen. 19 con Salves. 18 Tagheu. Assist Malen. E' ancora il migliore. A se però ce lo comprovamo. Però pari con Nunes. Poi. In tasa portoghesa. Non abbiamo praticamente nessuno. Il primo è lino con due gol. Vediamo un attimo le altre competizioni. Tipo. Troffato i campioni. Ce ne prega niente. Supercoppa. Champions League. Champions League. 8. Blablabla. Beh. Bravissimo Navarro. 7. A meno 1. Da essere capocannonieri della Champions. Bravo Navarro. E Nunes 6. Quindi. Clamoroso. Abbiamo fatto solo i gironi. Ragazzi. Abbiamo vinto. La classifica. Assist Man. E quasi la classifica Marcatori. E poi. Navarro fa anche 6 gol in Europa League. Quindi. Ha fatto benissimo. Ha fatto una cosa. Come tipo. 13 gol. In Europa. Tra Cervi e in 6 Europa League. Poi. Murillo ha fatto bene anche negli Assist Man. Insomma. Non mi posso lamentare. Questa è la squadra che vince il campionato portoghese. Feli 79. Centrale di Zubeldi 84. Carlo 81. Carlos 84 a destra. Davari 85 a sinistra. Fernandez 82. Lugna 87 a centro campo. Pinto 84. Trequartista. Lino 87. Murillo 81. Navarro 85. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando. Iscrivetevi al canale. Qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi vi lascio tantissimo. Mi piace. Boccio all'alene come sempre. Ci vediamo al prossimo video.